ciao ragazzi e bentornati sul canale come sempre aggiornamento di home assistant di gennaio con qualche novità degna di nota ragazzi quindi adesso non perdiamo tempo io l'ho già installato ovviamente e andiamo a vederlo ok come potete vedere la versione core è quella del 2024 di gennaio e la prima novità è la parte di automazioni ok quindi sotto impostazioni automazioni nel momento in cui non esiste nessuna automazione come in questo caso vedete che c'è una simpatica invece deve la schermata nera abbiamo comunque una sorta di scritta con questa faccina simpatica che ci dice cosa è possibile fare ma non è solo questa la novità ovviamente nel momento in cui andiamo a creare una nuova automazione è stato un attimino rivisto anche il wizard e adesso vi faccio vedere in dettaglio che cosa allora come vedete comunque sono cambia è cambiata un po la presentazione ok anche se potete vedere ancora in inglese sono state specificate un po meglio cosa vogliono dire le varie sezioni e nel momento in cui io vado a per esempio diciamo vengono chiamate costruzioni ok vengono chiamate costruzioni e nel momento in cui aggiungo un nuovo elemento costitutivo ad esempio vi faccio vedere ok qua abbiamo le varie attivazioni qua abbiamo le varie condizioni che è possibile attivare e qua le varie azioni ok ad esempio qua possiamo aggiungere questo building block che è di fatto la novità ok che non è nient'altro che oltre alla condizione classica vado ad aggiungere un blocco quindi fai quest cioè fai se questa cosa è così e per esempio così oppure così quindi è il classico and or o non vabbè not nelle condizioni di if in maniera diciamo più semplificata quindi è possibile vederlo in maniera più semplificata questi sono i cosiddetti building block oggetti costitutivi ok poi diciamo un altro cambiamento è la possibilità nei pulsanti nei pulsanti di aggiungere un trigger ok quindi sarà molto più semplice ad andare appunto ad aggiungere un trigger perché abbiamo questa nuova schermata di di scelta ok che raggruppa per quelli più usati dalla comunità in altro oltre che una serie di altri trigger vedete che adesso è molto più semplice abbiamo anche tutte le descrizioni e quindi poi si potrà andare a compiere a completare adesso qua non ne ho di etichette scansionate però tutto quello che serve nel momento in cui inizia la nostra automazione quindi quando ok poi sono state diciamo unificate le azioni cosa vuol dire unificate l'azione in senso che non abbiamo più bisogno di conoscere in gergo tecnico chiama il servizio ok quindi qua nella nuova schermata in aggiungi azione senza sapere il dominio del servizio cost turn on turn off qua a seconda di quello che vogliamo fare ad esempio la luce possiamo dirgli accendi comoda spegni vedete tutto molto più semplificato ok quindi per utenti che di tecnico magari sanno poco e anche della parte di strumenti per sviluppatori qua non l'hanno mai vista possono tranquillamente fare un'automazione tutto con il search che è molto comodo per cercare in mezzo a 3000 opzioni e quindi direi che hanno rivisto un bel po questa parte per semplificarla per gli utenti chiamiamoli base ok quindi questa è una poi altra cosa vi ricordate che da poco sono state aggiunte le liste i to do i famosi to do ok che sia lista della spesa o che sia to do cos'è quindi qua chiamate liste di attività cos'è che adesso è possibile fare nella parte to do è possibile andare finalmente ad impostare al di là della descrizione anche una due date quindi una data di scadenza ok come giusto che sia in un elemento di tipo to do quindi questo è anche anch'esso molto importante poi è stato introdotto un nuovo tipo di entità ok che l'entità valvola che adesso io qua non ho una valvola termostatica settata impostata ma vi invito ad andare a vedere sulla documentazione di omassi state appunto questo nuovo tipo che è possibile comunque configurare ad esempio in automatico con l'integrazione shelly ok nel momento in cui avete le valvole della shelly quindi tramite mqtt ma è anche tramite yaml potete crearla quindi è abbastanza semplice ok poi abbiamo una serie di novità sulle schede ok quindi nello specifico è possibile adesso nelle schede termostat e umidificatori visualizzare come informazione principale la temperatura attuale ok della di dove è stato messo appunto il termostato piuttosto che adesso ve lo faccio vedere direttamente sulle note di rilascio di home assistant queste due cose perché sono abbastanza basilari quindi qua è possibile andare appunto a vedere la temperatura della stanza in quel momento e quando è settata poi è stata aggiunta anche questa possibilità cioè quella di andare a definire la velocità della ventola nella parte clima ok auto item item lo come potete vedere qua e l'ultima novità in termini grafici è stato aggiunto un pulsante che consente di attivare le azioni di aggiornamento quando vengono premuti ok quindi possiamo aggiornare il nostro home assistant per intenderci i nostri addon direttamente da come potete vedere una plancia creata da noi e creiamo la classica schedina e noi da lì quindi più un discorso di scheda di amministrazione per intenderci questi sono i cambiamenti principali che diciamo questa versione di home assistant ha portato considerate che c'erano di mezzo anche le feste quindi non sono stati molti bene io cerco di stringere per fare il video corto in maniera tale da seguirlo velocemente quindi spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciatemi un like mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale che rimanete sempre aggiornati su home assistant e su tante altre cose a breve esce il video del diciamo di come e che rare chiamiamolo così il sonoff txt ultimate che è una placca muro 503 con espo e quindi andare a riscrivergli di fatto il firmware e andare a fare tante tante veramente tante cose quindi mi raccomando non perdetevi questo nuovo video e rimanete aggiornati iscrivendovi io vi saluto vi ringrazio e alla prossima ciao ragazzi